Il Grande Fratello 2023 targato Pier Silvio sta facendo molto preoccupare signorini e soci. Il reality show più famoso d'Italia sta facendo i conti con un flop inaspettato, ma forse da molti immaginato. Benvenuti su Reality Italiano, il tuo canale di notizie sui reality e sul gossip più intrigante. Le tensioni stanno scuotendo la casa, e le critiche impietose di Alfonso Signorini scatena la ribellione degli inquilini. È davvero il Grande Fratello in declino? Metti un like al video ed iscriviti al canale per seguire da vicino questa storia. Il Grande Fratello 2023 sta vivendo un momento difficile, e i dati di ascolto ne sono una testimonianza lampante. In sei delle sette puntate trasmesse finora, il reality non è riuscito a sfiorare nemmeno il 20% di share. Ma quali sono le cause di questa crisi senza precedenti? Una delle ragioni principali sembra essere l'assenza di dinamiche interessanti all'interno della casa. Il pubblico si lamenta apertamente della noia che caratterizza questa edizione. Le speranze di vedere nascere una coppia intrigante o assistere a litigi avvincenti sembrano svanire nel nulla. Conoscendo la storia del Grande Fratello, credete che questa edizione possa sopravvivere a una possibile chiusura anticipata? O è giunto il momento di dire addio a questo reality? Nonostante i tentativi forzati di creare intrighi, come le litigate tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi o tra Heidi Baci e Anita Olivieri, le dinamiche rimangono piatte e prevedibili. Il cast non brilla di stelle, e la conduzione sembra essere in difficoltà nel trovare materiale interessante. Parlando di Alfonso Signorini, persino gli inquilini hanno preso posizione. Sembrava disperato e ha chiesto esplicitamente l'aiuto degli inquilini per risollevare lo spettacolo. Ma cosa potevano fare in una casa priva di scintille? Le lamentele non si fermano qui. Gli inquilini si sono lamentati della scelta di riempire la casa con persone già fidanzate, creando un'atmosfera di stagnazione. Ma cosa riserva il futuro per il Grande Fratello? È davvero a rischio chiusura anticipata con uno share che fatica a superare il 18%? Siamo alla resa dei conti, cari spettatori. L'edizione attuale del Grande Fratello sembra essere la più piatta che si ricordi. Il nuovo corso targato Pier Silvio Berlusconi sembra aver ridimensionato il programma. Ora, la domanda cruciale è, come reagiranno i vertici di Mediaset? Il rischio di una chiusura anticipata è più concreto che mai. Restate sintonizzati per scoprire cosa riserva il futuro di questo iconico reality show.